Avrà inizio oggi a Sciacca alle 18.30 presso la Chiesa di San Domenico, una particolare rassegna composta da quattro lezioni concerto tenute dagli studenti dei corsi accademici di alta formazione artistico-musicale del Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera, lezione oggi rivolta agli alunni della secondaria di primo grado ad indirizzo musicale Mariano Rossi di Sciacca. L'iniziativa rientra infatti nell'ambito del progetto Le Pietre dell'Incanto, piano delle arti finanziato dal Ministero dell'Istituzione e del Merito, promosso e organizzato proprio dall'Istituto Comprensivo Mariano Rossi, con il coinvolgimento di altre scuole ad indirizzo musicale del territorio, quali il Santibivona di Menfi, il Roncalli di Burgio e il Don Bosco Navarro di Ribera. Ad esibirsi sarà l'ansambla di clarinetti del Conservatorio, diretti dal maestro Nicola Di Grigoli, che replicherà il 28 novembre alle ore 18 presso la chiesa San Pellegrino di Ribera. I concerti poi proseguiranno con l'ansambla di archi del Conservatorio Toscanini, curato dalla professoressa Maria Adelaide Filippone, che si sibirà il 20 marzo alle ore 18 presso l'Aulamagna del Santibivona di Burgio Caltabellotta, e il 21 marzo alle 18.30 presso l'Aulamagna del plesso di scuola secondaria di primo grado Edmondo De Amicis di Caltabellotta. Entusiasta dell'iniziativa il direttore del Conservatorio Arturo Toscanini, il professor Riccardo Ferrara, siamo lieti, commenta, di aver raccolto l'invito della dirigente scolastica Paola Triolo dell'Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca, istituzione capofila a partecipare a questo importante progetto didattico e di divulgazione culturale promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e che vedrà coinvolti i nostri studenti accademici con lezioni concerto destinate agli allievi delle scuole medie di indirizzo musicale. Fare Rete, conclude il direttore Ferrara, è un'occasione importante per valorizzare la filiera dell'educazione musicale e la presenza di un conservatorio di Stato del territorio. Grazie a tutti.